Ridurre il personale della regione in sovrannumero tenuto conto che sono arrivati anche i dipendenti delle province per ottenere al regime un risparmio di 4,5 milioni di euro l'anno e per potersi dotare finalmente delle figure tecniche, ingegneri e geometri in primis, che mancano nell'organico. Questo per il coordinatore della maggioranza di centro-sinistra Camillo D'Alessandro il senso e l'utilità del maxipiano di prepensionamenti deciso dall'Aggiunta regionale che interesserà circa 170 dipendenti che comunque erano già in dirittura d'arrivo per l'età pensionabile. Si tratta di personale che aveva i requisiti per il prepensionamento e noi abbiamo attivato questa procedura. Noi vorremmo a seguito di questa operazione che produce risparmio poi poter nei limiti delle risorse e delle possibilità che il regime ci consente interdire una serie di figure di cui la regione un po' manca soprattutto le figure tecniche, penso agli ingegneri, penso ai geometri. L'operazione non sarà però a costo zero, ci sarà infatti necessità di un'indennità sostitutiva per il mancato preavviso di sei mesi, previsto in caso di procedura di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Indennità che avranno un costo di circa 2,5 milioni di euro ma per D'Alessandro il saldo resterà comunque ampiamente positivo. C'è una spesa subito a fronte di un risparmio di domani, tra spesa subito e risparmio di domani si risparmia. Io credo che non è che i servizi lo dà il numero dei dipendenti, i servizi li dà l'organizzazione dei dipendenti e per organizzare bene i dipendenti ci serve un numero fisiologico e non patologico.